Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parleremo di un filato i cui colori sono davvero affascinanti, in grado di rivitalizzare qualsiasi progetto. Perfetto sia per esperti che per principianti. Ebbene sì, ha uno spessore ma soprattutto delle sfumature e dei giochi di colori in grado di realizzare qualcosa di unico alla portata di tutti. Ma adesso analizziamo nel dettaglio il Gaga. Ed eccolo qui il nostro Gaga, credetemi è davvero morbidissimo, oltre che anche vaporoso e luminoso. La composizione è la seguente, 100% acrilico, un acrilico però di ottima qualità, certificato anche Ecotex e Global Textile Standards. Un filato davvero molto morbido, adatto quindi anche per i più piccoli. Dello spessore giusto, infatti consigliamo o l'uncinetto 5-6 oppure i ferri 7-8. Veniamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Consigliamo sicuramente di lavare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 30 gradi. Non è possibile utilizzare l'asciugatrice ma consigliamo quindi, come ormai ben sapete, di tamponare la creazione e quindi non strizzarla e poi riporla ad asciugare in una posizione piana. È possibile stirare la creazione realizzata con il Gaga ad una temperatura che non superi i 110 gradi. Non è possibile candeggiare ma adesso vediamo, curiosissime, analizziamo nel dettaglio, le sfumature di colore che presenta questo Gaga. Ovviamente grazie all'aiuto dei telini. Pronte ad essere stupite? Ebbene sì, sono certa che sarete rimasti davvero sbalorditi. Questo è l'effetto del Gaga. Ovviamente sicuramente può esserci una variazione in base ai punti che realizzerete e alle dimensioni. Questo diciamo è un telino 40x40. Però diciamo ecco l'effetto comunque dovrebbe essere di base questo. Ecco perché dicevamo è perfetto per realizzare qualcosa di unico anche per principianti. La variante che abbiamo visionato prima nel dettaglio e che stiamo visionando adesso è il Gaga sereno e qui troviamo panna, glicine e verde. Questa che vedete qui invece è la variante Gaga elegante e lo è insomma di nome di fatto. Quindi anche qui troviamo un panna molto chiaro che può fingersi tranquillamente un bianco, un grigio e un verde acqua. E analizziamo invece adesso il Gaga sognante che ricorda un po' quei classici maglioncini anni 80-90 che spesso venivano realizzati con queste varianti di colore. Quindi cosa abbiamo? Un rosa molto acceso, un azzurro e un bianco. Insomma dei colori che comunque non passano mai di moda e che il Gaga ripropone. E parlando di maglioncini dal sapore invernale, dal sapore di baita sulla neve, ecco a voi il Gaga raffinato con colori che vanno dal panna al grigio scuro a questo delicatissimo azzurro. E questo invece altro non può essere chiamato che Gaga solare dove troviamo colori del bianco ma ovviamente anche un bel giallo e un bel arancione con questi piccoli intervalli di marroncino. E questo invece è il Gaga pacifico ovviamente quindi ci sono tutte le varie tonalità del blu ovviamente sempre con questo colore di base che troviamo in tutte le tonalità del il Gaga che è questo bianco. Qui invece abbiamo il Gaga audace e quindi ben venga questo rosa molto acceso e questa base bianca che perfettamente stacca con le altre due tonalità. E infine l'ultima variante di colore, vale a dire il Gaga delicato e qui ovviamente c'è un bel glicine in rosa e il bianco perfettamente fusi tra di loro. Un filato 100% acrilico di alta qualità e con delle certificazioni molto importanti. Questo cosa garantisce non solo una bellezza estetica ma anche resistenza e durabilità. Dal primo all'ultimo punto ogni cambio di colore, ogni magia sfumata donerà tocco speciale alla vostra creazione. E non serve essere un mago dell'uncinetto per creare delle meraviglie con questo filato. Infatti anche i principianti potranno realizzare qualcosa di davvero sbalorditivo. Che cosa potreste realizzarci? Ma sicuramente qualsiasi cosa, dai capi di abbigliamento, quindi maioncini, cardigan o vestiti in modo tale che anche le sfumature e i vari disegni possano ripetersi o perché no anche delle belle stole o delle mantelle. Maxi pull e ovviamente cappelli e sciarpe, accessori immancabili. Il tutto perché può essere perfettamente abbinato anche mixando magari i vari colori. Quindi scatenate la vostra creatività e acquistate il Gaga in modo tale da rendere ogni progetto un vero capolavoro. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, di seguirci su tutti i social e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao! Ciao! Ciao!